Allora, buonasera a tutti, benvenuti e grazie per essere qui con noi e ringrazio i nostri ospiti Laura e Maurizio per essere qui al Festival del Giornalismo a Verona. Continuiamo quindi a parlare di podcast ma questa volta, come diceva il collega prima, cambiamo genere e parliamo di crime che in questo momento è un genere che sta appassionando veramente molti ascoltatori in tutto il mondo e soprattutto anche in Italia e quindi abbiamo due esempi qui su questo palco. Allora faccio una breve presentazione prima poi di passare alle domande. Abbiamo qui due giornalisti, Maurizio Corte è un giornalista professionista, scrittore per i media e media analyst e dal 2010 si occupa di crimine, giustizia e media e giornalismo investigativo ed è autore del podcast Il colpevole perfetto, la storia sbagliata di Lorenzo Bozzano e Milena Sutter di cui vi parlerà appunto questa sera. Invece Laura Antonella Carli è anche lei giornalista e copiedi, realizzata in giornalismo anche lei d'inchiesta e reportage immersivi, ha scritto per testate come Vice, Rolling Stones, l'inchiesta e il tascabile e all'attivo una serie di podcast prodotta da Lucky Red che intreccia il true crime con la storia degli anni di piombo. Allora prima di adentrarci nei vostri due podcast quello che vi vorrei chiedere a entrambi e quali sono i criteri che voi utilizzate o che avete o meglio utilizzato in questi casi qua per scegliere una storia di crime perché di casi ce ne sono tantissimi che sono successi in Italia, come mai voi avete deciso di parlare di queste due storie e come le avete scelte. Vado io? Ma allora secondo me tendenzialmente di una storia ci si deve abbastanza innamorare e nel mio caso con Ludwig la vicenda è stata un pochettino particolare perché io volevo realizzare un podcast già da diversi anni perché mi interessava come strumento, mi intrigava, volevo sperimentarlo. Nella storia di Ludwig che qui a Verona immagino sia arcinota, ma al di fuori vi assicuro veramente poco, mi sono imbattuta davvero un po' per caso. Non ricordo neanche su cosa stessi facendo ricerca quando ho sbattuto la testa contro questa storia di questi due giovani della Verona bene che sono stati processati per più di venti delitti, poi ufficialmente sono stati condannati per una decina, però già c'è una mole impressionante per dei serial killer italiani. In più c'erano degli aspetti assolutamente peculiari per cui c'era la questione politica che entrava un po' di soppiatto attraverso soprattutto i volantini di rivendicazione. Questi volantini stranissimi con questi toni proprio da quasi collettivo per quanto di estrema destra, sormontati dall'aquila nazista, scritti in caratteri pseudorunici che facevano chiaramente riferimento a un movente nazista, che è veramente anche questo molto peculiare per dei serial killer, il movente politico. E questo aspetto mi ha intrigato moltissimo. In più ci sono anche degli elementi quasi da setta religiosa, perché questa loro missione che dichiarano, appunto quasi messianica di purificamento della società e purazione proprio della società dai deviati, ha delle caratteristiche appunto quasi da setta, quasi staglie mistiche. E quindi mi è sembrato un unicum talmente strano che mi son detta com'è possibile che io questa storia non la conoscessi, non ci fossi mai venuta a contatto prima. E questo mi ha fatto pensare che da un lato probabilmente c'erano delle ragioni da approfondire sul perché questa storia era così poco conosciuta, perché poi ho fatto un po' di domande in giro, ho chiesto alle persone che conoscevo e quasi nessuno aveva presente la vicenda. E dall'altro ho pensato, visto che è così poco affrontata, forse è il caso di raccontarla di nuovo. Va bene Maurizio invece nel tuo caso. Nel mio caso io ho cominciato a occuparmi perché avevo 14 anni, era il 1971 quando è accaduto il ufficialmente sequestro e omicidio di Milena Sutter, una ragazzina di 13 anni a Genova, figlia di un ricco industriale della cera, tutti noi sapevamo cosa significava Sutter perché guardavo anch'io Carosello e alla fine c'era un prodotto Sutter per la cera. E mi ricordo come fosse adesso, ne accendo anche nel podcast, ero seduto d'estate in agosto che leggevo il memoriale di Lorenzo Bozzano, perché la cosa interessante di questo caso è che lui su input del suo primo avvocato, una volta che è sospettato addirittura fermato, subito dopo quando, dopo qualche giorno viene rilasciato, fa una conferenza stampa. E infatti c'è un documento televisivo dove risponde a delle domande di Mila Pastorino, che era una giornalista RAI. E poi questo caso l'ho sempre seguito, poi il mio legame anche con Genova, ci ho lavorato un anno e mezzo nel 91 e l'ha conubito tra l'altro l'avvocato dei Sutter, l'avvocato Gustavo Gamalero, esponente del Partito Liberale, che era nel collegio di parte civile. Poi nel 96 c'è stato molto poco a livello televisivo su questo caso, perché la famiglia della vittima si è opposta e ha cercato in tutti i modi di fermare qualsiasi cosa che parlasse di Lorenzo Bozzano e del caso. E Sandro Curzi fece i grandi processi, mi ricordo lo registrai anche. E poi nel 2010, in primavera, una studentessa, Laura, siamo a Laura pure lei, Laura Leonesio, mi chiede una tesi di laurea. Dico, al fine della lezione, dico, su cosa vuoi fare? Cronaca nera. Io dico, no, cronaca nera no, io faccio esterni, mi occupo di altre robe, non mi frega niente, cronaca nera. Ma lei insisteva, era sempre molto attenta, poi aveva fatto una tesi triennale su tre casi, mi ricordo quello di Rina Fort, truculenti. Io la cronaca nera, ovviamente un giornalista non può conoscere qualche caso importante di nera, ma non è che l'avessi mai praticata, ha fatto un po' di nera, poco giudiziaria. Non è che mi interessasse, se non come fenomeno sociale. Ho detto, sentiti, ci penso, e mi è venuto in mente il biondino della spada rossa, che non era biondo né magrolino. Siccome io dal 98 ho cominciato a fare ricerca su come i media rappresentano la diversità, i cittadini stranieri, eccetera. Il mio primo lavoro è stato sulla calda estate dei clandestini del 98, dove immigrato uguale criminale. Ho detto, beh, potrebbe essere un'idea. E gli ho detto, però è anche interessante che tu lo intervisti, ma gli ho detto, gli scrivo io, perché non mi fido che gli scrivi tu che sei una donna. E da lì è nato questo mio interesse. Poi, perché una storia, secondo me, merita di essere raccontata? Tutti noi ci intratteniamo con le storie, lo sappiamo, insomma. Citavo prima Carosello, ho inventato lo storytelling, prima dello storytelling Carosello. Io ho trovato subito, e più approfondisco, e più è grande questa storia, non c'è nessuna storia che la batta, non perché l'ho voluta cercare io, ma non ce n'è una che la possa battere. Mi è piaciuto molto il discorso di Ludwig, perché abbiamo fatto un lavoro molto simile, Laura e io, senza conoscerci. È una storia emblematica, dove c'è dentro tutto. Non c'è nulla di qualsiasi cosa della mia vita quotidiana, delle persone che incontro, che dove non ci sia. Infatti, dico intanto mia moglie, anche spesso, tutto c'entra con il caso Sutter. Anche stop al genocidio, cosa c'entra stop al genocidio, Gali, con il caso Sutter? Poi ve lo spiegherò perché c'entra. Va bene. In effetti i vostri lavori hanno, diciamo, forse anche due elementi in comune, oltre al fatto che tutti e due questi casi sono successi durante gli anni di piombo, anche se comunque parliamo di un arco temporale un po' diverso, però comunque c'è questa epoca storica che li collega in qualche modo, ma poi tutti e due avete fatto un lavoro che è andato oltre le sentenze giudiziarie, appunto. Cioè avete messo in discussione quelle che sono le sentenze giudiziarie. Quindi è interessante adesso adentrarci pian piano, insomma, approfondire il lavoro che avete fatto. E ritornando quindi a Laura, ti chiederei intanto come i delitti di cui parlate nel podcast si legano al nazismo? E poi anche come avete fatto concretamente questo lavoro? Perché lo dici nell'introduzione, avete letto un sacco di sentenze giudiziarie, visti documenti diversi, sentito anche diversi attori dalle forze dell'ordine, da giudici, da testimoni, insomma. Ecco, se ci puoi un po' raccontare il tutto. Sì, allora, il legame politico diciamo che è un aspetto che è stato molto sottovalutato nella narrazione del caso Ludwig in tutti questi anni. Però c'è un elemento fortissimo che subito lo mette in luce, che è appunto quello dei volantini. Cioè se sono loro stessi a dichiare un movente politico, perché sminuirlo subito? E quindi da lì ho cercato di esplorare questo movente politico. Anche perché ho visto che effettivamente nelle sentenze di cui una prima si trova addirittura in rete, quindi quella l'ho letta subito, la sentenza a ordinanza di invia giudizio a processo per i due Abele Furlan. Infatti, scusatemi, forse non so se devo fare un minimo di riassunto del caso, perché trovandomi a Verona do un po' per scontato, ma magari sbaglio. Anche un brevissimo riassunto, non si sa mai. Forse ci sta, forse ci sta. Allora, diciamo, i delitti Ludwig coprono un arco di tempo che va dal 77 all'84. Primi delitti non vengono messi in relazione tra di loro, ci sono una serie di omicidi, di figure, che poi a posteriori possiamo riunire sotto una categoria di diseredati persone considerate outsider dalla società, quindi senza tetto rom, la prostituta, il tossicodipendente, l'omosessuale, quasi un campionario di figure che potremmo considerare un po' reietti, soprattutto all'epoca. A un certo punto gli omicidi iniziano ad essere rivendicati da questi volantini, che sono un po' un mix tra le lettere, un po' da serial killer al stile Zodiac, che scrive ai giornali con anche un po' un fare un po' enigmatico, e proprio i volantini dal tono politico. Quindi iniziano ad essere rivendicati e si inizia a pensare a una paternità comune di questi delitti che poi pian piano alzano il tiro fino ad arrivare alle stragi o tentate stragi, tra cui la strage al Cinema Eros di Milano, che a me fa particolarmente impressione perché si tratta della mia città in cui sono nata e cresciuta e anche quella è una strage che è praticamente sconosciuta e sono morte sei persone. Però anche lì, essendo frequentatori del cinema porno, sono un po' delle vittime considerate di serie B. Ora, dopo l'alzata di tiro, sia a livello di numero di vittime che di espansione geografica, perché i primi delitti avvengono in Veneto, poi si inizia a passare a Milamara. E però lì cosa succede? Che gli autori vengono presi sul fatto, c'è una serie di circostanze per cui la moquette ignifuga, quindi il tentativo va un po' male. I due ragazzi vengono notati, vengono individuati dai frequentatori, vengono praticamente quasi linciati e niente, vengono arrestati. I due, Abel e Furlan, vengono poi messi in relazione con gli altri delitti Ludwig, in realtà soprattutto in prima istanza per azione della polizia tedesca. Comunque, si inizia a metterli in relazione e pian piano si trovano una serie di elementi che li ricollegano proprio alla sigla Ludwig. Ora, il lavoro che io e il mio collega Nicolò Tabarelli abbiamo cercato di fare è stato di cercare di esplorare gli aspetti che però sono stati un attimino tralasciati dalla verità giudiziaria che ha attribuito tutto unicamente all'azione di questi due ragazzi. Che verosimilmente, sì, penso anch'io a essere coinvolti ma forse non sono stati da soli. Da questo punto di vista ci sono una serie di elementi che, studiando un attimo il caso, aprono un po' la pista, quantomeno al dubbio. Ci sono questioni di ordine logistico, per cui comunque le azioni che hanno compiuto richiedevano tutta una serie di sopralluoghi, di spostamenti. Le rivendicazioni venivano spedite, tra l'altro, da città sempre diverse, in genere Brescia, Bologna, comunque altre città che i due ragazzi non frequentavano. Ci sono tutta una questione anche proprio di di spostamenti a strage stessa del Melamara. I due ragazzi hanno parcheggiato la Vespa al paese vicino. Cioè, hanno fatto praticamente 40 minuti con le taniche di benzina in giro, belli tranquilli e soprattutto, evidentemente, prevedevano, secondo la versione ufficiale, di scappare a piedi dopo aver compiuto. Mentre lì diciamo che, oh, poi tutto possibile, non è detto, però il buonsenso un po' suggerisce che è più probabile l'idea di qualcuno che aspetta fuori e poi quando vede che le cose si mettono male, se la dà gambe lasciando quelli che sono stati presi sul fatto. Vabbè, insomma, comunque una serie di elementi che hanno iniziato a fare un attimino dubitare quanto meno del fatto che avessero fatto tutto per conto loro. Abbiamo cercato di esplorare questa pista seguendo soprattutto la questione dell'ambiente politico, perché tante testimonianze li davano coinvolti con ambienti veronesi dell'estrema destra, in particolare legati al movimento di ordine nuovo che ormai si era disfatto, però aveva dato, aveva fatto nascere tutta una serie di piccoli gruppi di ispirazione, più o meno politica, più o meno anche mistico, religiosa, che però costituivano un milieu che poteva aver fatto, se non altro, da ambiente che poteva offrire qualche sistema di fiancheggiamento che ha potuto aiutare probabilmente questi atti. Insomma, l'idea è semplicemente partire proprio dal dubbio, dal fatto che veramente tutte queste cose che ci suggerisce anche il buonsenso, sono davvero risolte nel racconto che ci è stato fatto, oppure ci sono degli elementi da esplorare? E lì secondo me abbiamo trovato anche tante cose interessanti. Fra poco ci dirai quali sono le cose interessanti che avete trovato. Sì, forse ho già anticipato qualcosa allora. Sì. Invece, passando al podcast del Colpevole Perfetto, io chiederei a Maurizio di spiegare un po' meglio chi era Bozzano, chi era Milena Sutter, perché si parla di una narrazione sbagliata, cioè come mai dopo 50 anni lei ha provato a fare un nuovo racconto di questo caso e quindi di riportarlo di nuovo in luce e all'attenzione dell'opinione pubblica? Sì, la domanda è interessante, adesso ti rispondo, ma il riferimento che tu hai fatto alla strategia della tensione c'entra anche con il caso Sutter ed è una cosa su cui sto lavorando. Basta di pensare che il vice capo della squadra mobile, quello che faceva le indagini sul campo, aveva la tessera di un'organizzazione criminale, ricordiamo che è criminale, che è la P2, 7-6-7. Questa è una cosa importante. Cosa succede? Giovedì 6 maggio 1971, poco dopo di 17, Milena Sutter, 13 anni, esce dalla scuola svizzera e scompare nel nulla. Il suo corpo viene trovato dopo due settimane, sempre di giovedì, intorno alle 17, da due pescatori dilettanti, senza vita, in mare, svestito. E questa è anche una cosa importante su cui ovviamente nel podcast non mi sono soffermato perché non era il caso, per la questione di rispetto verso la vittima, verso la sua famiglia. Subito viene individuato Lorenzo Bozzano, che non è biondo né magrolino, è castano scuro, ha una spider rossa molto malandata e che si aggirava nella zona dove abitava la vittima, il quartiere borghese di Ricchi di Albaro, e viene visto anche vicino alla scuola svizzera, dove si fermava anche là lui, la sua spider, eccetera. e grazie al Corriere Mercantile, un giornalista, che dice, che intervista delle vicine, c'era un biondiccio, chissà come mai lo fanno biondo o che non era biondo, che si aggirava. Allora lo individuano facilmente perché lui non si nasconde di certo, trovano la sua spider e lo fermano, trovano un piano di rapimento lampo, diremmo oggi, dove abitava da una fitta a camere, ore 8, ore X, 19.30, raccolta del riscatto. Tenete presente che a Genova, siamo nel maggio 1971, a Genova la banda 22 Ottobre, che sono un po' i progenitori delle bagate rosse, rapiscono Sergio Garadolla per 200 milioni di lire. E tra l'altro, il giorno dopo la sparizione di Milena, arriva una telefonata, di cui io contesto la validità, e come contesto la tesi del sequestro, che dice, se volete 50 milioni, prima è uguale a Corso Italia, nessuno peraltro va in Corso Italia, e poi c'è una puntata del podcast dove parlo di questo. Lorenzo Bozzano esordisce, nel modo peggiore, figlio anche lui di una ricca famiglia borghese, i Bozzano, che sono imparentati con i Costa, quelli della Costa Crociere, quindi siamo a livello di alta borghesia, come Milena, e lui esordisce con una bugia, dicendo, sì, io mi fermavo vicino alla casa della vittima perché guardavo le gambe di una cameriera, che le mostrava generosamente, ed è vero, e nega le soste in via Peschiera, e negare alla polizia è una cosa evidente, insomma non è il massimo, e lui neghera sempre, fino a quando non ci sentiamo al telefono del 2010, dove con me ammette che invece in via Peschiera si fermava. Questa è la storia ufficiale, io contesto sia il sequestro, che soprattutto l'omicidio premeditato e volontario, perché Lorenzo Bozzano viene assolto poi nel 1973 per insufficienza di prove, viene invece condannato in appello, ma su delle imputazioni che non stanno in piedi, cioè non c'è un omicidio volontario premeditato perché le cause della morte della vittima sono tutte da discutere, e io ho sentito medici legali, eccetera, il sequestro, anche quello faccio tutta, ho messo in crisi tutta una serie di cose, un giornalista investigativo, come anche uno studioso, io ho lavorato sul doppio caso, come studioso dei media e come giornalista investigativo, non può fermarsi alla sentenza, noi continuiamo a sentire dire, evito il commento, le sentenze si rispettano, bene, io la sentenza di condanna di Bozzano l'ho demolita proprio, perché lui è stato mandato all'ergastolo su un'imputazione che non sta in piedi, non solo, non ha avuto un giusto processo e il suo giudizio è stato determinato prima, io ne ho le prove, le prove, ho qualcuno che sa come è stato costruito, tutto questo si inquadra, perché vedete un'altra cosa molto importante, mi è piaciuto molto il lavoro di Laura sul discorso dei due presunti settori, serial killer, noi guardiamo al fatto singolo, mentre bisogna guardare il contesto, il contesto, Genova, Genova è una delle centrali dove Junio Valerio Borghese cercava i finanziamenti per il golpe borghese, tant'è che Don Andrea Gallo, il prete scopodo, diceva, è una storia tra borghesi, e aveva una sua idea, che io ho parlato non condivido, ma comunque collegava il fatto a un qualche cosa di molto più grande, il fatto su cui ho fatto il podcast, e ci sono le liberiate rosse, c'è la massoneria, e c'è uno scontro di poteri, insomma, bisogna allargare lo sguardo per vedere meglio, poi quando un giudice istruttore, ma anche i giudici che assolvano Lorenzo Bozzano gli ha fatto un cattivo servizio, ti dicono, la ragazzina adolescente, parava ragazze, ma anche da Beatro, famiglia assolutamente rispettabile, non aveva turbamenti di carattere sentimentale, quindi è un sequestro, ora, che un adolescente non abbia turbamenti di carattere sentimentale, è come dire che domani il sole sorge a Occidente, insomma, ecco perché i giornalisti devono andare oltre, perché abbiamo anche il desiderio di verità, come accennava anche Laura, cosa che non sempre i magistrati e gli inquirenti hanno, perlomeno nei casi che ho conosciuto io. Quindi diciamo che in entrambi i casi il dubbio e anche alcune forse contraddizioni in questi due casi giudiziari vi hanno portato a rimettere un po' in discussione tutto, quindi io vi chiedo a entrambi quali sono state le vostre fonti e i testimoni che avete sentito con cui siete riusciti a scoprire quel qualcosa in più che non era immerso. Sì, allora, infatti mi chiedevi anche prima della questione metodologica che invece mi sono messo a conto un po' in uso. No, allora, la prima fase è naturalmente la raccolta del materiale, tutto quello che si riesce a trovare diciamo di reperibilità facile. e da lì riesci comunque già a darti un minimo di struttura un minimo di orientamento che poi tendenzialmente verrà completamente sconvolto però serve per procedere. Dopodiché una cosa importantissima è naturalmente fare tutta una lista delle persone che è il caso sentire e quindi poi muoversi per intracciarle. allo stesso tempo è importante cercare di arrivare alle fonti giudiziarie perché nei casi così vecchi è più complicato ci sono tutta una serie di passaggi burocratici quindi bisogna iniziare a muoversi per tempo nel nostro caso siamo dovuti andare all'archivio di Stato però non si poteva fotocopiare nulla quindi dovevi stare lì leggere tutto sul momento l'aspetto però delle interviste credo che sia quello davvero fondamentale e su questo poi ognuno ha le proprie tecniche diciamo a me piace sempre far parlare tanto le persone perché tendenzialmente non è detto che le cose più interessanti vengano fuori da quello che tu avevi in mente di chiedere e dalle risposte che tu ti aspetti quindi più fai parlare più metti a tuo agio l'intervistato e più vengono fuori degli aspetti magari secondari a cui non avevi assolutamente pensato ma che ti regalano degli spunti poi la fase in cui metti insieme tutti gli elementi raccordi secondo me è quella più bella perché fai una sorta di linea tipo la linea ristorante metti lì tutti gli ingredienti e poi inizi a comporre scrivi raccordi e lì secondo me è molto cioè la fase molto creativa anche divertente in cui poi tra l'altro hai anche la soddisfazione un po' dici vabbè allora un po' di roba l'ho tirata fuori sull'aspetto di cosa che mi chiedevi di cosa è venuto fuori e quali quali erano stati i testimoni che avevate sentito e che in qualche modo vi hanno fatto capire che forse non c'erano solo due persone dietro quei delitti certo e allora nel mio caso purtroppo testimoni importanti tanti non erano non erano più disponibili per varie ragioni in particolare uno dei due che io quando avevo proposto il podcast Abel non è ancora in coma e quindi io contavo di andarlo a sentire assolutamente poi è successa questa cosa in coma irreversibile e nulla le persone più interessanti ecco lì c'è secondo me un po' di mancanza di sia familiari delle vittime non ha voluto parlare veramente nessuno e anche questa è una differenza rispetto a non so le stragi famose in cui ci sono anche magari tutti i gruppi di familiari caso Ludwig veramente c'è c'è un po' un silenzio stampa da parte di tutti quindi questa è un po' una mancanza invece dal punto di vista sia di figure istituzionali compreso giudice che poi noi un po' critichiamo diciamo nella nostra intervista cioè cerchiamo di mettere un attimino in luce gli aspetti che ci sono sembrati un po' strani della sua sentenza però si è dimostrato in realtà molto disponibile a livello di forza dell'ordine qualcosa è saltato fuori poi c'è c'è anche un testimone abbastanza importante che è un un ex ordinovista che sosteneva di avere comunque una 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 panoramica su su tutto quell'ambiente di cui appunto parlavo che discendeva da ordine nuovo che probabilmente ha dato un po' di culla anche al gruppo Ludwig li hanno utriti in qualche maniera se non proprio concretamente aiutati ecco un altro esempio mi viene in mente a proposito del del biondino io credo abbastanza poco nelle testimonianze oculari le trovo sempre molto molto dubbie perché poi anche i ricordi sono sempre tanto falsati però essendoci così tanti delitti legati a caso Ludwig ci sono anche tanti tanti testimoni e tanti tanti identikit che descrivono persone totalmente diverse anche lì parlano di ragazzi tacchiati grassocci tre quattro sono minimo di dubbio diciamo che lo suscita per quanto poi l'affidabilità sia relativa certo e invece nel suo caso Maurizio quali sono state le fonti che lui che lei è riuscita a reperire i testimoni anche che ha sentito comunque le interviste che ha fatto che le hanno fatto capire che forse la sentenza era da mettere un attimo in discussione quella su Bozzano sull'ergastolo intendo allora consentimi di dire che se io ti rivelassi le fonti dovrei essere cacciato subito dall'ordine dei giornalisti tra parentesi a parte la battuta io ho intervistato sono stati importanti ma non sono stati determinati ho intervistato tantissime persone dal pubblico ministero Nicola Marvulli che condusse l'indagine che rappresentò la pubblica accusa a quel tempo come anche al tempo del lavoro di Laura c'era il giudice istruttore che era una figura potentissima quello non ha voluto farsi intervistare agli avvocati di parte civile all'avvocato che è ancora vivo Silvio Romanelli che allora era un giovanissimo avvocato di Bozzano la lunga frequentazione e anche l'amicizia con Lorenzo Bozzano che comunque non ha in alcun modo inciso sul mio lavoro anzi e tutta una serie di altre figure ma quello che secondo me è importante è proprio il metodo io quando accettai cioè proposi la tesi dissi voglio documentare anch'io a parte che il caso mi interessava per i motivi che ho detto e mi sono letto la sentenza di condanna e lì ho subito colto poi ci ho fatto fare una tesi di laurea e Deborah Melotto ha fatto un lavoro splendido di logica e argomentazione giuridica non c'è una argomentazione che regga una ma subito io colsi qui mi vogliono fregare e quando uno cerca di fregarmi a livello intellettivo a livello cognitivo è la cosa peggiore che possono fare dico qui non regge qui mi stanno prendendo in giro e allora sono andato sui documenti e la risposta è lì ed è lì che sto lavorando perché la risposta è sui documenti poi nel 2011 ho avuto l'onore di illustrare il caso all'Università di Huddersfield a David Cantor che è il padre della psicologia investigativa uno dei più grandi criminal profiler al mondo e un certo Eddie che è uno scienziato forense mi disse guarda io non conosco l'italiano non posso darti una mano ma ti do un consiglio tu leggiti tutti i documenti giudiziari e là dove c'è qualcosa che non funziona accendi una luce e allora io ho preso tutti quanti gli atti ho creato le scene del crimine sparizione morte telefonate al rapittore ritornamento del corpo pezzo per pezzo pezzo per pezzo ed è crollato e ho utilizzato anche la metafora del teatro mi sono letto il Van Gogh ma la vita quotidiana come rappresentazione e ho guardato Lorenzo Bozzano Milena Sutter e sono arrivato alla mia teoria dei quattro stadi i fatti il narratore il giudistruttore il grande suggeritore che io so chi è e poi c'è il quarto livello l'iperuranio che quello mi interessa meno e sono riuscito a individuare che non tornano i conti perché vi dico questo questo lo dico anche dei colleghi appunto come metodo di lavoro poi ho avuto la soddisfazione di fare un corso on demand su masterclass c'è un bellissimo corso di giornalismo investigativo del famoso giornalista di tutti gli uomini del presidente e ho detto caspita ho applicato gli insegnamenti che dice lui insomma si vede che che sono riuscito con il buonsenso e con il mestiere che con l'applicazione è andare in direzione giusta e poi ho guardato appunto la tutta quanta la narrazione perché mi sono detto allora è questo se io vi racconto una storia inventata se non vi dico se non parlo di un personaggio che cammina e va sulla luna voi ci credete a questa storia ma se e quindi se so essere convincente ve la bevete tranquillamente ma se qualcosa è accaduto e devo costruire una storia su quanto è accaduto sì mi posso inventare una storia ma se qualcuno va a guardare e io non so vi ho detto che la certa cosa è accaduta in Australia mentre non è accaduta in Australia voi alla fine mi riuscite a demolirmi ed è quello che sto facendo quello che ho fatto è quello che sto facendo la cosa che mi interessa adesso perché poi è il motivo vero per cui mi interessa questa storia è come il grande suggeritore sia riuscito una mente raffinatissima a infinocchiare decine di milioni di italiani me per primo ci ha fregato tutti e io sto cercando di capire come ha fatto e secondo me la stessa cosa è accaduta anche è una mia idea sicuramente è una bella sfida direi ma la si può vincere perché non possono barare sulle cose che sono successe e su quello che hanno detto certo anche se vogliamo un po' il compito del giornalista investigativo ecco è il cuore se vogliamo anche del suo lavoro tornando invece al caso Ludwig quali sono quindi quegli elementi che sono stati tacciuti che invece erano magari importanti portare alla luce che voi avete cercato di portare alla luce nelle vostre puntate del podcast allora gli elementi sono parecchi qualcuno magari l'ho già accennato rifacendomi al discorso delle fonti di prima un aspetto una fonte molto importante è stata quella degli atti giudiziari o degli atti di indagine relativi a questioni che non c'entravano nulla col gruppo Ludwig per esempio gli atti sulla strage di Brescia contengono anche elementi in cui si riprende il caso Ludwig perché anche lì i dubbi che certi personaggi appartenessero quantomeno allo stesso ambiente ce l'hanno sempre avuti anche gli inquirenti anche le forze dell'ordine quindi per esempio uno degli imputati per la strage di Brescia che si pensa uno dei possibili attori materiali era un compagno di scuola di Abel e Furlan che quindi loro sicuramente conoscevano e che alcuni testimoni dichiarano come loro amico che insieme a loro frequentava questi gruppi del disciolto ordine nuovo insomma tutti elementi che si ritrovano davvero anche andando a spulciare in casi che non sono immediatamente collegati un altro aspetto è quello legato alle ronde pirogene antidemocratiche che è uno dei gruppi terroristici diciamo italiani più bizzarri quasi ridicoli perché per fortuna se non altro non ha fatto dei danni gravi non ha fatto nessun morto solo danni alla proprietà perché diciamo che il loro core business era dare fuoco alle utilitarie alle auto che consideravano da pezzenti però avevano un manifesto e il manifesto era maledettamente simile nei toni ai comunicati di Ludwig e quindi diciamo questo aspetto di andare a guardare anche proprio tra le carte di indagine che comunque sono una fonte importantissima per tutte tutte le vicende crime anche tra quelle però molto più alatere e lì pian piano trovi un tassello ti ricolleghi vai a spulciare da un'altra parte e vengono fuori degli elementi importanti un altro aspetto quello in realtà era già stato evidenziato ai tempi delle indagini di Ludwig quindi è riportato anche nella loro sentenza e però gli si è dato veramente poca importanza e alla testimonianza di queste due ragazze che erano diciamo le fidanzatine per un certo periodo di Abel e Furlan che raccontano che i due gli avevano accennato che si riunivano in questo appartamento in via Stella che anche lì è un indirizzo abbastanza noto e collegato a un certo ambiente perché partecipavano a questo gruppo i guerriglieri di Cristo Re che era ovviamente di ispirazione paranazista insomma c'è la loro chiara testimonianza che li collega a un ambiente politico di un certo tipo mentre diciamo la verità giudiziaria ufficiale di tutti questi loro collegamenti con l'ambiente politico del loro stesso movimento politico cerca di minimizzare il più possibile tant'è che non per essere polemica però visto che tanto Maurizio l'è già stato ci sono degli aspetti della sentenza che veramente adesso credo facciano un po' stracciare in naso a chiunque perché non so si legge che il movente nazista è trascurabile perché tanti nazisti non hanno mai voluto fare piazza pulita dei deviati delle delle scuole ho imparato diversamente ma sarà e poi lì diciamo che un altro aspetto che dovrebbe lasciare un po' perplessi è il fatto di voler tutto un po' derubricare a questione di malattia psichiatrica quindi lì si è fatto il discorso della folia che fa abbastanza scena cioè il disturbo psicotico condiviso per cui ci sono queste coppie criminali in cui uno è un po' la figura dominante carismatica l'altro è l'elemento un po' più succube e vengono presi da questa sorta di raptus però continuativo nel tempo e per carità potrà anche succedere però mi sembra sempre un modo un po' facilone di risolvere le questioni anche perché poi un disturbo mentale non significa che non ci fosse anche un movente politico tra l'altro sembra sempre un modo di allontanare quello che troviamo malvagio inquietante preoccupante metterlo un po' sotto la cappella sicura del no ma tanto gente malata non ci riguarda però forse se hanno ucciso un po' di persone ci riguarda in realtà forse ci riguarda sì e invece tornando al caso su Terbozzano e volevo chiederle quali sono i nodi che sono rimasti risolti di questo caso che forse anche vanno a smontare la sentenza se si fa un'analisi un po' più critica allora voglio dire una cosa perché lei ha usato un aggettivo che non condivido polemica anni fa Scalfari disse a un ministro della giustizia a Ballarò Floris naturalmente intervenne disse guardi che lei disse il ministro è borderline no no non è un'offesa è lei che è borderline non è che io la sto offendendo cioè la sentenza è una sentenza come si può dire scandalosa ma non perché la giudico io ma perché lo è lo è di fatto non regge sul piano logico argomentativo è stata costruita vi dico solo una cosa un giorno tutto ho documentato quello che dico un giornalista un giornalista e non era mi ha dato credito che non c'è più di cui ovviamente non posso fare il nome genovese mi ha detto io sono andato dal presidente della corte d'assiste d'appello e gli ho detto guardi presidente che lei testimoni li deve sentire in questo 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 modo perché se li sente in modo diverso non si capisce che Bolzano è colpevole ora tra l'altro Bolzano cercò di rigusare due volte questo presidente di corte d'assiste d'appello che non c'è riuscito ora voi capite bene che se un giornalista vada a un presidente da corte d'assiste d'appello l'altro non ci va di sua iniziativa ma lo manda qualcuno io so chi l'ha mandato e se l'altro non lo caccia dall'ufficio c'è qualcosa che non funziona è gravissima una cosa del genere tra l'altro all'inizio del processo il giudice alattere ha il compito di esporre il caso l'avvocato di Bolzano si dimise in aula leggendo e richiamandosi la costituzione e abbandonò la difesa dicendo lei non ha illustrato il caso ha già fatto una requisitoria ora di fronte a una cosa del genere come fai a stare zitto se sei un giornalista anche perché noi giornalisti abbiamo un compito diverso rispetto agli inquirenti poi il bello a distanza dei 50 anni tu Beatrice chiedevi quali nodi giusto ma è molto semplice tutti quanti si sono concentrati io non voglio dire che fossero in malafede in appello qualcuno era in malafede gli inquirenti a parte il piduista che c'entra tra l'altro vi ricordate Tenco il corpo spostato ecco sempre quel poliziotto lì prima era a Sanremo poi è venuto a fare disastri a Genova piduista si vantava di essere nella gladi e poi è stato ucciso nel 2005 in modo che non si capisce bene in quale situazione tutti quanti gli investigatori io spero credo in buona fede si sono concentrati su com'è sparita sta ragazzino o meglio come Lorenzo Bozzano è riuscito a farla salire sul Taspider perché non c'erano le condizioni per un rapimento uno va a rapire una ragazza tanto forte sportiva e lui fumava 40-60 goluasa al giorno e era sovrappeso cioè non aveva il fisico insomma cosa fa sparisce in mezzo è come se ci fosse un rapimento in piazza delle erbe insomma qualcuno si dovrebbe accorgere tutti si concentrano lì invece io ho portato l'attenzione al dopo cioè per riuscire a fare una certa operazione complessa occorre avere le caratteristiche i mezzi le opportunità per realizzare quella certa cosa lì Lorenzo Bozzano non ce l'aveva in alcun modo è come se io domani la proporzione non è esagerata è come se io domani mattina vi dicessi che alla mia età e con il mio fisico riesco a battere il campione del mondo nei cento metri e dice questo qua è scemo come fa? è stato periziato tra l'altro Lorenzo Bozzano dalla criminologa Laura Baccaro con cui abbiamo scritto il libro Il biondino a spada rossa crimine giustizia e mezzo del 2018 quindi sono andato a vedere là dove c'erano delle contraddizioni io naturalmente non voglio dire che lui sia innocente io dico le cose sono andate di modo diverso potrebbe aver avuto anche una sua parte non posso saperlo di sicuro è accaduto altro e poi vi dicevo prima l'imputazione e qui un'altra cosa molto importante l'imputazione sia di omicidio volontario e premeditato non sta proprio in piedi una cosa molto importante che noi giornalisti dobbiamo assolutamente e che spesso non facciamo assolutamente applicare è ricorrere agli esperti io sono ricorso agli esperti per quanto riguarda la perizia medico-legale per quanto riguarda la parte criminologica e mi hanno detto delle cose completamente diverse da come erano state dette al suo tempo è questione di applicare la scienza è questione di applicare il metodo la logica e vi farei invece adesso una domanda un po' più tecnica ovvero quali sono gli strumenti che voi avete utilizzato proprio per fare il podcast nel concreto in un caso poi tra l'altro si tratta di un'autoproduzione nel caso del colpevole perfetto invece in un altro caso parliamo di una distribuzione più grossa perché il podcast di Ludwig è distribuito invece con Lucky Red quindi volevo un po' capire anche queste differenze ovvero cosa significa produrre un podcast da soli e poi promuoverlo e cosa significa invece farlo con un distributore che esiste già da decenni insomma allora secondo me quasi tutta la prima fase credo sia abbastanza identica cioè l'aspetto più più dirimente forse è che nel mio caso avevo qualcuno che mi doveva sempre approvare i contenuti che producevo quindi in questo caso invece Maurizio ha avuto molta più autonomia e credo sia proprio una sua precisa scelta per fortuna mi è andata abbastanza bene nel senso che non ho avuto grandi condizionamenti a livello pratico però anche nel caso di Lucky Red tutte le prime fasi di lavoro sono state molto molto autonome quindi registrazioni tutto tutto in completa autonomia lì l'aspetto più in cui ho avuto un grande aiuto è stata proprio la fase finale di mixaggio anche la registrazione perché comunque abbiamo registrato in studio le voci di raccordo mentre appunto le interviste le abbiamo fatte completamente per i fatti nostri tra l'altro avevo il mio registratorino con microfono un po' bellino e tutto però ho imparato che non si sa mai c'è sempre qualcosa che può andare storto quindi tanto registravo anche con l'iPhone e adesso non ricordo più quali ma ce ne sono alcune che sono state registrate banalmente col telefono che poi sono andate comunque nella versione definitiva poi invece diciamo nella fase finale per cui mi sono sentita forse un po' penalizzata dalla produzione più più dall'alto è stato quello dei tempi perché si dilazionano tantissimo tantissimo mentre il lavoro di inchiesta andrebbe portato a casa nei tempi più brevi possibili perché se no si sparge la voce insomma ci sono tanti controeffetti che possono saltare fuori ma io la invito tanto perché lei ha registrato cinecittà io ero mezz'anni di sotto nel piccolo appartamento che abbiamo nel paese di mia moglie che adoro perché è il suo paese perché ci si sta molto bene tanto ci sono anche molto affezionato perché dove ho registrato dietro c'è il divano dove ho fatto molte delle telefonate del caso anche due ore prima che morisse in mare Lorenzo Bozzano quindi sono oggetti che ho vissuto poi ho avuto la fortuna di incontrare Giuliana Corsino che ha fatto un lavoro veramente professionale che poi tra l'altro da uno come me che da bambino balbettava insomma è stato un grande successo giocare sulla voce perché tanto è a voce sola questa prima stagione perché poi non è finita qua e naturalmente mi sono preparato perché io amo studiare perché non è che uno comincia una cosa senza studiare e infatti ho fatto ascoltare la registrazione a un corso che sto facendo adesso che c'è un regista radio Rai c'è un decano dei tecnici radiofonici Rai Paolo Restuccia Michele Faro e mi ha fatto i complimenti per i sound che è merito di Giuliana Corsino e per tutto il resto è stata una grande soddisfazione ma l'ho fatto come scelta cioè il discorso il bello del podcast è che dunque io ho anche il Rode che costa sui 200 euro ma comunque con un tono di 50 euro il computer può dire innanzitutto le prime registrazioni le devi buttare è chiaro che vanno rifate poi chi come me viene dalla carta stampata cioè io ho sempre scritto per essere letto con la mente e invece dovevo leggere qualcosa infatti io subito apro il libro e leggo no perché soggetto verbo complemento oggetto punto soggetto verbo complemento punto poi devi dare anche insomma è stata una bella sfida ma è interessante perché è un qualche cosa che ciascuno di noi può fare per quanto riguarda il discorso poi del pubblico della promozione beh allora io che ho fatto tutta una serie di corsi di web marketing e adesso vi spiego perché c'entra stop al genocidio in Rai e dirà effettivamente c'è bisogno di qualcuno ma anche il suo lavoro oltre che il mio perché perché la cosa che vedete dà più fastidio lo so nel libro che ho scritto nel blog sul caso in questo podcast sapete qual è non è il fatto di dire ma non è andata così forse è andata in un'altra maniera no è il fatto che io parlo di Lorenzo Bozzano come di una persona e ho deciso di mettermi in gioco con il discorso del podcast lui è morto il 30 giugno del 2021 ci eravamo sentiti un paio d'ore prima e erano definito il killer di Milena Sutter e allora io ho pensato e faccio una citazione da Pino Daniele ho pensato mi avete scassato cazzo adesso voglio parlare no eh sì eh a un certo punto è impossibile e il podcast mi dà la possibilità di parlare per chi vuole ascoltare Certo e prima di chiudere chiedo se c'è magari qualche domanda dal pubblico qualche curiosità non fate i timidi sì dobbiamo andare un po' di sintesi perché c'è uno spettacolo teatrale che fra poco fa entrare il pubblico quindi se c'è una domanda da rispondere a cui rispondere in maniera sintetica vedo che sono tutti mi sembrano contenti soddisfatti di quello che eccolo qua Mario allora buonasera a tutti avevo la domanda riguardo al suggeritore al professor Corte effettivamente lei si è fatto un'idea di come effettivamente abbia potuto abbindolare tutta la gente che ha conosciuto questo evento perché questa domanda ok è ancora aperta però c'è un'idea piccola piccola che sta venendo fuori e tu vorresti che ti rispondessi a quella che è una ricerca complessa che su cui sto riflettendo diciamo che so quello che è lo strumento che sono i giornali chiaramente e si è applicata la diversione dell'attenzione cioè porto l'attenzione in una direzione diversa rispetto a quella dove le persone si sarebbero potute indirizzare e in questi casi accade per una serie di fattori perché c'è anche come diceva il buon Machiavelli visto che siamo Machiavelli diceva 50% virtute 50% fortuna ci hanno avuto anche un 50% fortuna per incontrare anche uno come Bozzano ma il fatto è che c'era già stato un rapimento prima mesi prima e quindi era una cosa credibile il rapimento un'organizzazione raffinata nel fare la telefonata nel costruire la storia e indubbiamente dei mezzi di un narratore che avendo conoscendo molto bene la criminalità e conoscendo molto bene la polizia sapeva come muovere i vari attori nel campo senza che se ne rendessero conto insomma questa poi i dettagli ci arriveremo con calma ma la cosa interessante è seguire proprio anche il filo narrativo ecco il di là bene possiamo ringraziare i nostri ospiti che ci hanno fatto entrare nel mondo del podcast e del crime ringrazio Maurizio Curte insomma lo so che è una tematica su cui indaga da tantissimo tempo e che non è mai esaurita e ringrazio ovviamente Laura Antonella Carli per essere stata con noi Beatrice Branca che ha moderato questo incontro io vi invito grazie a tutti Grazie a tutti.